Amici di Le Fonti TV, ben ritrovati per un nuovo approfondimento che lega sport ed economia. Quest'oggi faremo i conti in tasca ai tennisti perché è uscita la nuova classifica, la classifica del 2020 di Forbes, il ranking dei 10 maestri della racchetta che hanno guadagnato di più nel 2020, un 2020 che nonostante la pandemia di coronavirus non è stato affatto avaro perché i 10 tennisti uomini e donne più pagati hanno incassato in totale 340 milioni di dollari rispetto ai 312 milioni dell'anno precedente. Ma chi c'è in testa a questa classifica? Beh, non poteva che essere lui, ovvero Roger Federer, numero 4 del ranking ma numero 1 dei paperoni del tennis con i suoi 106 milioni di dollari. Il 95% di questi 106 milioni sono derivati dalle sponsorizzazioni perché in realtà quest'anno Roger Federer non è sceso in campo tante volte, solamente 10 partecipazioni e 2 vittorie nei tornei. Ma il re della racchetta, l'elvetico, è da 15 anni in testa alla classifica dei tennisti più ricchi e non solo, anche è lo sportivo più pagato in assoluto dell'ultimo decennio perché può vantare un portafoglio di sponsor addirittura superiore a quello di altre icone dello sport globale come Lebron James, Cristiano Ronaldo o lo stesso Tiger Woods. Tra i suoi sponsor, tra i marchi soprattutto che lo vestono, c'è Uniqlo, il marchio giapponese che ha sostituito Nike dal 2018, un contratto decennale della portata di 600 milioni di euro che continuerà ad essere, ad esistere anche se lo svizzero dovesse decidere di ritirarsi dal tennis. Un'ipotesi in realtà che appare piuttosto lontana perché Federer dopo le due operazioni al ginocchio sta pian piano recuperando, si sta riprendendo dal punto di vista fisico e vuole ripartire alla grande nel 2021, il primo slam della stagione a gennaio in Australia, l'Open di Melbourne, naturalmente se tutto andrà bene dal punto di vista sanitario come ci auguriamo. Vediamo quindi al secondo posto della classifica dove c'è Novak Djokovic. Novak Djokovic che ha vissuto un'estate davvero particolare, prima è risultato positivo al coronavirus in seguito al torneo che lui stesso aveva organizzato l'Adria Tour dove però non sono state rispettate in pieno le norme di sicurezza e di distanziamento sociale e poi soprattutto all'Australian Open è entrato nell'occhio del ciclone per aver colpito seppur involontariamente una giudice di linea scagliando la palla contro i teloni in un gesto di stizza e quindi Novak Djokovic dovrà rifarsi dopo questa estate turbulenta nella classifica di Forbes è al secondo posto con 45 milioni di dollari, praticamente meno della metà di quello che guadagna Roger Federer. Ma vediamo alla terza posizione ovvero Rafa Nadal, 40 milioni di dollari guadagnati quest'anno. Nadal che non ha potuto difendere il titolo dello US Open, ha conquistato l'anno scorso ma che si sta preparando per la stagione sul rosso. 40 milioni quindi meno di Djokovic, molto meno di Roger Federer anche perché Rafa Nadal ha un appeal meno importante rispetto alle sponsorizzazioni, questo forse anche per il carattere piuttosto freddo del mallorchino, piuttosto timido, lui stesso ha detto di non amare i social network, non vuole diffondere, sfruttare troppo la sua immagine, ha detto io sono un ragazzo degli anni 80, non sono nato con la tecnologia e cerco di tenermene il più lontano possibile. Chi invece è molto presente sui social è la prima donna in questa classifica di Forbes, ovvero Naomi Osaka, 22 anni campionessa dello US Open nel 2018, 37 milioni di dollari, meglio di qualsiasi altra tennista in questo 2020. Lei appunto che ha un'immagine potente, vincente, sfruttata anche dai vari marchi, perché? Perché è una ragazza che rappresenta pieno le nuove generazioni, è una ragazza di origine giapponese, la mamma giapponese, il papà di Haiti però è cresciuta in America dall'età di tre anni e quindi si sente anche una cittadina americana, è attiva, lo abbiamo detto moltissimo, sui social network e non ha paura di esporsi dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche politico, perché sul suo Twitter è apparso anche un filmato che la ritraeva durante la manifestazione di Minneapolis dopo la morte di George Floyd, quindi anche un grande impegno per questa battaglia contro il razzismo, come del resto altri grandi tennisti nel corso della storia si sono schierati, ricordiamo Billie Jean King in favore dell'equiparazione dei premi in denaro tra uomini e donne, poi Martina Navratilova che ha sdoganato l'omosessualità anche nel campo del tennis femminile e come non ricordare Serena Williams che è al secondo posto della classifica delle tenniste più pagate del 2020 con 36 milioni di dollari, la vediamo qui troneggiare proprio sulla copertina di Forbes America Richest Self Made Woman, la donna americana più ricca, una donna che si è fatta da sé e non solo sul campo da tennis perché Serena è una vera e propria imprenditrice, alla sua immagine sono legati molti marchi da Nike a Gatorade ma addirittura insieme alla Serena Venus è anche una piccola quota di minoranza in una franchigia nella NFL ovvero i Miami Dolphins, una donna a tutto tondo che ha combattuto dentro e fuori dal campo, una mamma anche ora che non smette appunto di lottare sul campo da tennis e non solo, è la prima grande tennista di colore che ha aperto la strada a tutte quelle della nuova generazione, se infatti oggi la stessa Naomi Osaka, Taylor Townsend o Steven Sloan possono ricoprire un ruolo di primaria importanza nell'elite del tennis che è sempre stata un'elite bianca lo devono proprio a Serena Williams. Ebbene allora abbiamo fatto questa carrellata tra i tennisti più pagati del 2020, si chiude qui questo approfondimento di economia e di sport ma le nostre pillole formative e informative continuano sempre qui sulle fonti tv. A presto!